fa bene perché c'è gente che promuove il corno l'etame qualcuno ci scrive ma siamo sicuri che l'olio italiano soprattutto quello del sud sia tanto migliore di quello tunisino il sud Italia è la patria delle sofisticazioni e truffe ecco io non scenderei in queste polemiche c'è un altro abbastanza interessante che dice davidicoltore, è un sms questo, dice davidicoltore vi dico che il problema della concorrenza sta nel rispetto dei disciplinari di produzione il fatto che un prodotto sia di qualità solo in quanto italiano è una fesseria personalmente a mio figlio preferisco comprare la frutta nella grande distribuzione piuttosto che negli incontrollati mercatini a chilometri zero ed è Alessandro da Pordenone allora ci telefona e io di questo ci sono molto grato perché noi siamo suoi fan da tempo lungo da tempo lungo perché è un giornalista esperto e saggio per quello che ha visto in tutto il Medio Oriente e in tutta questa parte del mondo che da decenni l'Occidente ha contribuito a infuocare per parte sua come se non bastassero gli elementi che la infuocano da sola e ci ha chiamato proprio perché ha sentito il peggio sull'olio Alberto Negri del Sole 24 Ore, grazie Alberto di essere con noi grazie a voi per l'ospitalità allora sulla Tunisia ma guarda io ascoltavo in questi giorni queste polemiche, ho letto e mi sono sembrate anche polemiche piuttosto ipocrite per spesse volte mi è capitato di andare in Tunisia ed ero tra l'altro lì durante il 2011 quando c'è stata la rivolta e ieri hanno sbarcato preoccupati agricoltori italiani che possiedono vasti, vastissimi oliveti in Tunisia l'olio tunisino arriva in Italia da decenni perché noi possediamo quegli oliveti e non solo se uno va a un supermercato qualunque lo capisce perfettamente dove va l'olio tunisino è pieno di ticchette di olio italiano con la dicitura non oli europei come veniva detto prima ma oli mediterranei naturalmente è scritto in minuscolo con un piccolo artificio grafico esattamente allora questa testimonianza di Alberto Negri raddoppia la solidità degli argomenti raddoppia le moltipliche all'ennesima potenza degli argomenti che abbiamo tentato di illustrare prima mettendo in crisi pensateci solo prima di abboccare a chi dice traditori quelli che hanno votato al Parlamento europeo per questo modesto contingente aggiuntivo di olio tunisino fuori dai dazi e io lo ringrazio perché dietro ci sono anche poi interessi italiani come vedete non solo dei coltivatori anche nella fila delle macchine agricole delle macchine di lavorazione noi abbiamo penso la leadership mondiale assoluta nel settore e ci abbiamo Renato Cifarelli che guarda caso con la sua azienda sta anche in questo settore dichiaro prima di tutto il mio conflitto di interessi però dici che le tecnologie italiane sono esportate in tutto il mondo proprio anche per questo genere di processi quindi far crescere un'agricoltura di controllo è importante per noi per esempio adesso tralasciando la mia azienda che comunque ha una quota molto molto importante del proprio fatturato nel mercato della raccolta delle olive quindi dichiaro il mio conflitto di interessi che però da un lato mi fa anche conoscere un po' il mercato ci sono anche aziende tipo Piera Lisi che è il leader mondiale per la produzione di olio però la gente si dimentica sempre una cosa l'olivo è un prodotto agricolo i prodotti agricoli non sono pianificabili cioè la pianificazione della produzione delle automobili è fattibile la produzione di quanti chili di olive produrremo quest'anno come dimostra il penultimo raccolto disastroso italiano è impossibile perché poi cos'è successo allora tutto il mercato dell'olio si gioca in Spagna perché Spagna è il grandissimo produttore ed è quello dove alla fine essendo il più grosso produttore si gioca il prezzo dell'olio che deriva da quanto se ne produce perché il mercato è dato da abbondanza o scarsità e quindi si produce poco il prezzo sale si produce tanto il prezzo scende nel 2014 abbiamo avuto una produzione che è stata bassissima e quindi sono state vendute tutte le scorte e il prezzo è molto salito dopo il 2014 e nel 2015 la produzione è andata molto bene per esempio in Italia e il prezzo è molto salito al di là dei problemi di cui si parla di malattie dell'olio sì sì non siamo malossi è stata una congerea di problemi meteorologici la verità è vera è che in Italia da sempre la maggior parte dei brand italiani di olio producono con olio che non è italiano no ma questo è ripeto tra l'altro a Voghera dove abito io c'era una delle aziende più grosse raffiche di ascoltatori per esempio Cardi, Bertolli, Carapelli, Danni sono in fila d'imperi ad aspettare la nave olearia tunisina in Liguria lo sanno tutti e così via quindi io che ci sia l'impegno a una più trasparente certificazione degli oli utilizzati anche per la produzione italiana ci sto la battaglia contro i razzi tunisini è pura demagogia di una politica nazionalista autarchica che fa di tutto oramai carne di porco populista per prendere voti cioè non c'entra niente per esempio un altro ascoltatore dice ma vi rendete conto che Alberto Negri sta autorevolmente prendendo per i fondelli cioè criticando i produttori italiani sì ma me ne rendo conto poi criticando gli imprenditori italiani hanno comprato lì non è che li sta criticando giustamente dice semplicemente guardate che una parte della produzione tunisina contro cui si scaglia la demagogia della politica in realtà sono produttori italiani in Tunisia con macchine italiane e con know-how italiani ma guardate che allora anche nell'agricoltura anche se è magari una cosa molto molto meno conosciuta c'è stata una fortissima internazionalizzazione negli ultimi anni cioè una grandissima filiera dei produttori di riso tanto per fare un esempio sono andati in paesi come la Romania dove stanno producendo un sacco di riso e perché anche perché non dimentichiamoci che in Italia lo spazio proprio fisico avendo l'appennino in mezzo che ci taglia eccetera per produrre e per fare agricoltura non è che sia quel granché per cui abbiamo delle estensioni che uno dice io su questo se vuoi poi adesso non c'è tempo io direi che poi molta gente insomma da una parte la iper sussidiata agricoltura europea troppo sussidiata specie quella francese vogliamo dirci e allora da una parte si fa il calcolo degli incentivi che può incassare dall'altra si fa il conto comparato del conto energia su come far rendere la terra se la rendo sede di impianti per la produzione di energia alternativa e questo spiega poi l'utilizzo di vaste aree coltivabili date ad altro uso andiamoci piano prima di avere la mitologia dell'eso diritto dei solerti produttori del biodinamico perché in realtà in realtà a fare i driver dell'utilizzo delle superfici coltivabili sono essenzialmente questi due fattori che ho ricordato prima tutti fattori esogeni distorti dalla politica e dagli interessi bravo sentiamo Gaetano dalla provincia di Ascoli Piceno Gaetano eccoci qua prego ci dica la sua buongiorno io ho sentito adesso quello che avete detto in relazione all'olio e mi devo ricredere perché sentendo queste persone così preparate così esperte effettivamente hanno detto la verità che ci sono produttori italiani che vanno in Tunisia e raccolgono praticamente olio tunisino su coltivazioni tunisine e poi lo portano in Italia e noi naturalmente consumatori abbiamo quell'olio lì quindi demonizzare adesso ho capito che demonizzare l'olio tunisino è completamente errato esatto poi Gaetano noi abbiamo diritto a sapere questo sì dai produttori che cosa utilizzano a sapere a conoscere l'origine eccetera io perché volevo spendere una parola buona per il mio olio per l'olio marchiciano della zona qui in provincia di Ascoli Piceno di Falerone è un paesino in provincia di Ascoli Piceno di circa 3.000 abitanti dove viene coltivato da tempo il cosiddetto piantone di Falerone che produce un olio veramente sopraffino guardi Gaetano noi tenteremo in tutti i modi di approvvigionarcene e gliene daremo atto perché io veramente io stesso da anni oimè spendo un po' troppo per approvvigionarmi da una parte d'Italia dove ho scoperto che c'è un olio e ho detto ma questa è una benedizione quindi grazie del piantone di Falerone è un posto bellissimo ci vado sempre in moto passando per l'Appennino bravo bravo grazie Gaetano torniamo tra un minuto